Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata dell'Angolo del Lupacchiotto. Cosa c'è da commentare questa settimana? Ovviamente il nostro Cosenza che non esce vittorioso da Carpi seppur abbia dominato una partita che comunque, come dimostrano i fatti, perché abbiamo tirato noi 15 volte il Carpi solo 7 solo che la cosa che fa paura è la precisione perché importa, dei nostri 15 tiri solo 6 ne sono arrivati. Purtroppo questo è un dato di fatto, comunque un 1-1 non da disprezzare, però comunque neanche che vada benissimo. Sono contento che Braia abbia fatto giocare Bacle e Baez, finalmente ha capito che deve mettere dentro, no, i nomi di Piazza e Maniero su tutti ma quelli che hanno voglia di giocare, quelli che hanno grinta, quelli che si vogliono fare vedere e vogliono diventare titolari. Bacle e Baez, sono due di questi, Baez ha fatto anche un gol bellissimo. Ok, che Colombia era piazzato male, però comunque il gol è assolutamente bello di Baez. Dall'altro fronte non è che ha fatto meglio Saracco, Saracco che purtroppo sul tiro da lontano di Jelenic ha sbagliato la presa e la cosa che c'è da notare è che quando Saracco ha sbagliato la presa, quando la palla è finita a mo' culo, no, la difesa è tutta ferma. Ho notato Dermacu che stava andando a prendere la posizione al posto di Saracco in porta, gli altri, Capela e Idda, Idda e Dorazio erano fermi, erano letteralmente fermi. Comunque Mucu l'ho colpito di tacco e poi Sciuti ha segnato, poi noi appunto l'abbiamo pareggiata alla fine. Io vorrei fare un appunto perché secondo me, nonostante questo pareggio, nonostante le critiche, Braia non si tocca. Braia non si tocca, non si spodesta dal posto dove si trova. Parlando rapidamente delle altre partite, abbiamo il Livorno che perde in casa 3-1 con lo Spezia, da notare anche il primo gol in questo campionato di Okereke. A differenza di Braia, Lucarelli rischia molto, ma molto di più perché comunque ultimo in classifica a due punti. Il Pado invece è altra concorrente alla salvezza del Cosenza, perde a Brescia 4-1 grazie alla tripletta del capo cannoniere attuale della Serie B Alfredo Donnarumma, ex Empoli. Inoltre, sempre in zona salvezza, l'importante di sia Vittoria e il Perugia, 1-0 in casa contro il Venezia, grazie al gol di Melchiorri che salva la panchina di Alessandro Onesta. Andando poi vertice della classifica, il sorprendente Pescara si fa beffe anche nel Benevento, vince 2-1 all'Ariatico, quello stadio che a noi evoca tanti ricordi, non lo smetterò mai di dire, batte per 2-1 il Benevento, mentre un sorprendente Lecce, che finora si può definire l'outsider della Serie B, vince 2-0 sul campo del Verona. Il Foggia arriva a pari punti con Cosenza e batte 3-2 Lascoli, il Foggia che noi avremo dopo la sosta, perché adesso c'è la sosta per le nazionali. Dunque, io sono abbastanza contento della nostra squadra, non contentissimo, però comunque mi va bene. Adesso c'è da preannunciare che le squadre sulla carta già abbordabili sono finite, perché adesso abbiamo sei partite, una più complicata dell'altra. Perché al Marulla verrà il Foggia, subito dopo si va in trasferta a Brescia, poi avremo in casa il Pescara nell'infrasettimanale, il Palermo fuori, il Lecce in casa e il Crotone fuori. Il Crotone che ricordo che la panchina rischia di saltare, quella è stroppo in quanto ancora una sconfitta è arrivata ieri, per 1-0 sul campo del Palermo grazie al gol di Nestorowski. Dunque, per oggi è tutto, ci vediamo come sempre fra due settimane, dopo la partita contro il Foggia, perché appunto adesso c'è la sosta per le nazionali, tra cui il nostro portiere Michele Gerofollin, che è stato convocato con l'Anderventi, breve inciso. Detto questo, ridò la linea a Giorgia in studio e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!